sempre fabbie k4 qjf operativo e abbiamo cambiato banda gli 80 abbiamo fatto 16 17 qso e poi chiaramente gli 80 insomma abbiamo fatto questi grechi in 40 metri la propagazione pare buona insomma si fanno vedo questo è uno dietro l'altro 32 che ore sono adesso il capotto questo un po prima messo un po meno di un po meno di un po meno di un po meno di ciao grazie a te italia whisky italia whisky ancora se dimenti italia whisky italia whisky hotel ecco alfa 1 hotel golf hotel ecco alfa 1 hotel golf hotel buon dia 59 grazie a 59 partiti buon fine settimana